La Campania, terra di incomparabile bellezza, dai tempi più antichi punto di riferimento della classicità. Era meta storica del Grand Tour, il viaggio di iniziazione dei ricchi intellettuali borghesi europei dell'Ottocento. Ricca di arte, storia e cultura, la Campania è anche una realtà produttiva e commerciale di grande importanza. Il Made in Italy qui si esprime al massimo della sua qualità, in particolare nella moda e nella tradizione del fatto a mano. Questo primato nasce dalla creatività e dalla maestria degli artigiani di questa regione allegra e operosa. Tradizione, cordialità, gusto, piacere di vivere, qui sono di casa e si colgono in tutti gli aspetti del vivere quotidiano. La crescita dell'economia campana è sospinta da infrastrutture e servizi di grande efficienza. È in fase di completamento la metropolitana più moderna d'Europa, collegata all'aeroporto di Capodichino. Tre voli settimanali raggiungeranno direttamente New York. Il porto è uno dei più importanti del Mediterraneo. Qui sono nate aziende che hanno scritto e continuano ad essere protagoniste della storia della moda, lavorando per chi nel mondo pretende il meglio. Geniale inventiva, stoffe scelte, lavorazioni accuratissime, capaci di esaltare manualità artigiana e tecnologia d'avanguardia. Così nascono abiti perfetti e inconfondibili. Le camice, rigorosamente lavorate a mano con pregiati tessuti e tecniche di antica tradizione, si distinguono per la loro straordinaria vestibilità. Chi la indossa le considera come una seconda pelle? Anche l'arte calzaturiera partenopea si esprime nella qualità. La concia naturale delle pelli e la mano attenta dell'uomo, le tecnologie più avanzate e le lavorazioni più esclusive creano scarpe di raffinata eleganza, curate nei minimi particolari. I piccoli particolari sono determinanti anche per accessori di grande personalità. Stoffe ricercate e grande fantasia fanno della cravatta un sinonimo di eleganza. Ma da oltre un secolo Napoli è diventata la capitale di questo raffinato capo proprio per la cura dei dettagli e la creatività della manifattura. Cura del design, attenzione nella scelta delle materie prime, attenta lavorazione a mano, inimitabili rifiniture. Una borsa made in Naples non è mai per caso un oggetto di alta classe e personalità. Un'altra tradizione tipicamente napoletana è la lavorazione dei guanti. Morbidissime pelli conciate naturalmente si trasformano in capi unici ed inconfondibili grazie alla passione di mani esperte. L'arte orafa in Campania ha radici antichissime. Armonie di materiali, forme particolarissime, colori unici, sensazioni preziose. Un patrimonio di fantasia e creatività che continua a generare raffinate collezioni dalle linee esclusive. Il corallo è un prezioso dono del mare. Le mani di esperti artigiani che si trasmettono un'esperienza secolare, qui lo interpretano e lo plasmano in forme meravigliose, dal fascino e dallo stile irraggiungibili. Negli storici musei della Campania, l'arte millenaria continua ad affascinarci e si ripropone oggi nei pregiati tessuti per l'arredo. Prodotti con preziose fibre e tecniche evolute, ispirandosi alla tradizione locale e dalle testimonianze del passato. Il Made in Naples è una sintesi di cultura millenaria, di piacere del bello e dell'eleganza in campania. Sobre il mio Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer